bella a tutti ragazzi bentornati sul nostro canale ed un nostro nuovo video come al solito io sono gabrie io birillo oggi andremo a presentarvi il nostro nuovo liquido vai birillo un liquido buonissimo si chiama col cap sarebbe un gelato alla marena tipo la spagnola il nonnetto ci stupisce sempre stupisce sempre abbiamo già provato altri liquidi del nonnetto che sono foto foto ora andiamo a fare la prova di questo liquidozzo questo è già pronto chi ci vuole la c'è giungere in potila noi sbappiamo a zero abbiamo poi finito già pronte già finito sbattato un po questi giorni per assaggiarlo è tanta tanta roba bello il packaging che tira su proprio il gelato che si vede nella confessione tanta roba allora vai gabrie sul ghani al druga io sul ghani e l'apocalypse sembra proprio quel gelato buonissimo buonissimo 10 c'è niente da dire è come se ti mangi il gelato non serve che mangi il gelato ti sbappi il liquido è come se prendi il cucchiaio con la coppetta cosa vuoi per merenda il cool cup tieni se hai tutto svappato di qui sei fuori buonissimo preso da svappo caffè ricordiamo marina di carrara moliciar la spezia sarzana e avenza tanta roba il nuovo negozietto di sarzana in via laudinelli per andare a vedere allora dalla taverna dello svappo è tutto se il video vi è piaciuto lasciate un like e iscrivetevi al canale ricordatevi che abbiamo la pagina su facebook e su instagram veniteci a trovare ciao 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 ciao